I derby sono tutti uno diverso dall'altro, c'è niente da fare, e delle volte tu puoi giocare bene, ma una bella partita è perdere uno a zero perché gli altri hanno fatto un tiro in porta. Come è successo a me, il derby con il Genova, mi ricordo con la Samp, cioè una partita in equilibrio incredibile, abbiamo sbagliato noi un gol clamoroso e poi ci fece con Rafinha da 40 metri, da 40 metri ci fece gol. Per farvi capire, magari poi i derby vinti, perché comunque abbiamo vinto dei derby bellissimi, contro il Verona, contro l'Elas, con il Vicenza, però ricordi ce ne sono, ma quelli che mi piacciono di più sono quelli che vengono, quelli che devono arrivare, perché comunque la bellezza, l'emozione di quando arriva un derby è proprio questa qui, di sentirlo e di viverlo. Ed è questa la cosa che secondo me domani sarà quando scenderemo in campo e a questo sappiamo benissimo che poi vincerlo è la cosa più bella per tutti noi, quindi questo è l'aspetto più importante. Poi mi permetto di parlare del Livorno, perché magari qualcuno mi può fare la domanda del Livorno, ma io l'anticipo, e in questo caso qua, io del Livorno sono rimasti molti amici, sia in società, sia fuori, voglio dire, però l'amicizia si saluta, si saluta prima della partita, poi quando ci sarà la partita, tutti quanti insieme a tifar spezia e cercare di far vincere lo spezia, perché poi come è giusto che deve essere così, e dopo la partita si deve ritornare a pensare allo stesso modo come era precedentemente, perché comunque io rimango sempre del fatto che certi valori, certe amicizie rimarranno sempre, però il campo, per me non ci sono amicizie nel campo, il campo si va per vincere e si va per far battaglia per cercare di arrivare ai tre punti.